Musica 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 La coppata prima delle pietre, seguiti poi da Inside Out e Bifri, Pascio e Bianca pronuncia via Inside Out, Bifri, Pascio e Bianca, Pascio e Bianca anche per Ficchi d'India. E allora Bifri, Ficchi d'India e Inside Out. Bebocco di chiur Bebocco di chiure Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie! 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 Grazie a tutti! 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 le mani allora sono gioco della corda partiamo veloci ma non c'è più di pietro stanno in cui ma per i figli di india inside out se volentando bene anche per i figli di india veloce nello scambio passano davanti alle pink lady ALE! ALE! Piano! Piano! Dai veloci 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 veloci! ALE! 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 Vito aiuto la sua girata! Ehi sono i viti di un vincitato di un vincitato. Ehi sono i vincitati! Adesso la vincitata! ALE! Momi! Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. e la squadra vincitrice i fichi d'India lisa indietro vengono consegnate le mie medaglie di bronzo alla squadra Ventos Chiara De Rosso Diana Merotto Mari Lubiz Eleonora Gigliotti e Francesca Cicali la medaglia d'argento per le Pink Lady Margherita Casani Elvia Pintore Giorgia Carta Vittoria Dila Elisa Patuelli Grazie 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 Ed ora la medaglia d'oro per questo trofeo B3 dai Vicky d'India I Vicky d'India sono primi classificati Davide Bonfano, Thomas Enna, Letizia Adriana Spezzico, Martina Pisano ed Elisa Pellati E' una squadra quarta classificata B3, Martina Lorenzetti, Elonora Carbonari, Elisa Lanogita, Martina Francesconi e Lorenzo Piccolo Consegnato anche il premio Joyker Ed ora una foto di gruppo per il podio della categoria trofeo B3 B2! 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 E dopo la B3 c'è la B2? Saranno la 1, la 2... B3 è la B2 fio di subito Ebbe sì Grazie a tutti.